Devo dirvi la verità, sono ancora bello, contento, galvanizzato, emozionato, felice per la bella vittoria di ieri e la prestazione gagliarda da parte dei ragazzi. Sono un po' triste invece pensando che nei prossimi giorni avremo una pausa forzata dalla Juventus e dovremo accontentarci di una pausa nazionale che è proprio detto fuori dai denti, mi importa meno di zero, cioè proprio meno di zero, se questo è lo zero siamo al di sotto, mi fa piacere alla fine che Locatelli non prenderà parte a questa spedizione, nemmeno Chiesa ma non per scelta tecnica per via di questa tendinite che si sta portando dietro quindi dovrà fare degli esami strumentali, addirittura mi dispiace che Fagioli sia stato convocato ma non con la maggiore ma con la minore quindi sarebbe piaciuto tenerli a casa questi giocatori perché veramente in questo momento meno meno dello zero mi importa di questa pausa nazionale, meno meno di meno ancora più di meno dello zero. Mi importa invece parlare della Juventus perché in questi giorni in cui va bene prenderemo un attimo di pausa dovremo iniziare a ricaricare le batterie e fare un bel respirone profondo perché poi ci sarà un aprile infernale, infernale, quindi ultime pagelle per un po' e poi torneremo con il botto. Guardatevi anche questa live reaction qui che è di un certo tipo, di un certo livello, di un certo grado di godimento e guardatevi anche il video che ho fatto uscire oggi in pausa pranzo riguardante le parole di Simone Inzaghi e il modo che secondo me non va bene di analizzare il calcio in Italia perché non va bene a targa alterne o lo fai sempre o non lo fai mai. Allegri voto a 7. Lo dico subito, la Juve fa una partita precisamente come la vuole l'allenatore. Non è stata una partita fantastica, non è stata una partita fenomenale. A tratti è stata una partita pure bruttina ma è stata una partita che è stata giocata esattamente su un copione scritto e diretto e interpretato da Massimiliano Allegri. La squadra ha fatto esattamente quello che chiedeva Massimiliano Allegri. Allegri l'ha preparata per giocarla esattamente così e quando un allenatore prepara una partita in un certo modo e riesce a ingabbiare l'allenatore rivale, per me vince tutto. Allegri è da 7 pieno ieri sera. Ripeto, non è stata una Juve che va lì e fa 10 tiri nello specchio della porta dentro un'area piccola. Non è una Juve che tiene il 60% di possesso palla, non è una Juve che arriva pulita sulla tre quarti, non è una Juve che dialoga in velocità con Tiki Taka e scambio. No, è una Juve ordinata, che si protegge e si difende bene, si difende in tanti, che sfrutta le ripartenze, nemmeno in maniera micidiale se vogliamo, ma sfrutta i momenti della gara in cui l'Inter prende quei colpi da KO, in cui l'Inter non è più in grado di fare la partita, perché l'Inter è andata completamente in crisi contro una Juve che non ha fatto, non si è inventata niente. La Juve ieri non si è inventata niente. La Juve ha messo spirito, la Juve ha messo voglia, la Juve ha messo grinta, la Juve ha messo fame. La Juve poteva farne due o tre nel secondo tempo, non li ha fatti, per mancanza di lucidità, precisione, dinamiche varie, quello che volete voi. La Juve però ci arrivava là, e la cosa bella è che, a parte dieci minuti nel primo tempo e dieci minuti nel secondo, la Juventus non ha rinunciato a giocare, voleva cercare di chiuderla. E poi abbiamo questo vizietto, invece nel finale, mettere su Paredes, così a caso. Scelta che non mi ha convinto al 100% proprio a livello tattico, non va nella direzione delle mie preferenze, e anzi, lì vai a portarti gli avversari in aria, lì può diventare un problema. E puoi anche andare a rovinare una partita nella quale veramente hai rischiato quasi niente, se non con due tiri di barella nei primissimi minuti, una partita che è andata esattamente come l'aveva scritta Allegri. Cioè, probabilmente Allegri non avrebbe potuto volerla meglio questa partita. Quindi, ripeto, non è stata la partita in cui la Juve ha fatto 200 tiri in porta, perché ne hai fatti tre, esattamente come l'Inter. Ma ho avuto proprio la sensazione di una squadra che poteva rendersi pericolosa in ogni momento. E poi ci manca sempre il centesimo per fare l'euro in zona di rifinitura. Forse non siamo abituati noi a sta roba qui, perché facciamo sempre molta fatica. Negli ultimi metri siamo a tratti anche inguardabili, e questa roba qui arriveremo al fine della stagione, che saremo così, non ci sarà niente da fare. Per quanto riguarda invece l'extracampo, io avverto un Allegri che da una penalizzazione in poi la sta sentendo di più. Io oggi su Instagram parlavo di sindrome da posto fisso. Secondo me Allegri, fino alla penalizzazione, sentiva tutto dovuto, tutto riconosciuto. Vici adesso che gli è stato toccato effettivamente il suo lavoro, e gli sono stati toccati i suoi ragazzi. E anche stasera, ieri sera, dopo una prestazione di questo tipo, le domande, il focus non era indirizzato verso quello che la Juventus in campo ha messo in più dell'Inter. Che è stato concreto e tangibile. Si è andati a guardare tutto l'intorno, tutto quella, non ci ha più visto. Allegri in questo momento sta sentendo la stagione come secondo me non aveva mai sentito dal suo ritorno alla Juventus. In questo momento vedo un Allegri che ha veramente volontà di raggiungere degli obiettivi. Cosa che nella prima parte della stagione, ragazzi, io non ho mai avvertito. Cosa che l'anno scorso non ho mai avvertito. Vincere, perdere, arrivare quarti, arrivare secondi, arrivare terzi, arrivare primi, arrivare quinti. Sembrava quasi sempre la stessa roba, adesso no. E adesso veramente ho la volontà di vedere in questo aprile quel passo in avanti davvero decisivo che sto chiedendo alla squadra da quando è tornato questo allenatore. Perché questo allenatore, Allegri, di questo devi valutarlo. In questo devi valutare Allegri. Non nel modo di far giocare le squadre. Non è mai stato un allenatore che fa giocare bene le squadre, Allegri. O a tratti lo ha fatto con la prima Juve che ha ereditato da Conte, quella che è arrivata a Berlino, che secondo me è stata una Juve meravigliosa, ma non era la priorità. Era una squadra incastrata con determinate caratteristiche. La volontà di Allegri è portarsi a casa le partite, anche nei momenti difficili. Anche nelle situazioni stagionali in cui sembra difficile. Finalmente abbiamo vinto uno scontro diretto in trasferta. Finalmente. Sono dei piccoli, piccolissimi passi in avanti, che secondo me non vanno a salvare la stagione, ma che ci vanno a proiettare in un finale completamente diverso rispetto a quello che ci potevamo attendere 5-6 mesi fa. 4-5 mesi fa. Quindi bene così. E soltanto il piccolo passettino per concludere al meglio un marzo, che poteva andare meglio, ma è andato, secondo me, anche in maniera egregia, e adesso serve concentrarsi per fare un aprile che vada a salvare questa stagione. Perché questa stagione può ancora essere salvata. Può ancora essere salvata dal fallimento totale. Ma la Juventus deve crederci. Allegri deve crederci, i giocatori devono crederci, e la dirigenza tramite gli avvocati deve farsi valere nell'aude dei tribunali. La Juventus può veramente respirare in questo aprile, che sarà un aprile di apnea totale. E per respirare bisogna passare proprio dalle partite come quella di ieri sera. Concreti, cinici, vogliosi. Fare la partita prima. Sul campo si gioca una partita che è stata costruita prima. Non si chiede il calcio spettacolo, non si chiede il calcio champagne. Lo sappiamo, non è quello che sappiamo fare. Non è questo. Però voglio una Juve come ieri sera, dal punto di vista della fame, dell'agonismo. Questo lo pretendo. Sei e mezzo a Scesni, perché Barella ci prova in un paio di occasioni. Portieri si fa trovare pronto, in buona posizione anche sul tiro dopo la buona giocata di Barella e Lukaku. Barella gli tira completamente addosso. Scesni, con le due occasioni, risponde presente. Voto, sei e mezzo, continuità. Dopo la bella prestazione di Friburgo. Sei e mezzo a Federico Gatti. Sei e mezzo a questo giocatore che veramente, ragazzi, sembra rinato. Sembra completamente un giocatore differente rispetto a quello che avevamo visto nelle prime apparizioni con la Juventus. Si vede che ha lavorato bene. Si vede che ha veramente in questi mesi lavorato bene. il lavoro da questi frutti qua. Su Instagram e su TikTok vi ho messo un reel in cui vi faccio vedere una partita dei due anni fa tra Fagioli e Gatti in Serie C, tra Juventus e Propatria. Ora vincono a San Siro da protagonista con la maglia della Juventus addosso. Bella scoperta Federico in questo finale di stagione. Vorrei vederlo sempre più spesso. Sei e mezzo. Ponto 7 a Bremer. Attenzione perché devo fare una roba. Bremer stamattina ha fatto così, ci ha guardato in tasca, e ha tirato fuori questo. Stamattina Bremer dalle sue tasche ha tirato fuori Romelu Lukaku perché era rimasto lì. Se l'era dimenticato lì è per fortuna che prima di fare la lavatrice ha controllato e ha tirato fuori Lukaku perché sennò poi magari rischiava di affogarlo dentro la lavatrice. Meno male, abbiamo salvato una vita clamorosa la prestazione di Bremer. Ha annullato completamente gli attaccanti dell'Inter. Poteva essere giocata a parti invertite, no? sta partita, maglie invertite. Felice che l'abbia giocata e vinta due volte su due in Serie A con la maglia della Juventus addosso. Aspettando l'Inter in questo aprile di fuoco per guadagnarsi anche un posto in finale di Coppa Italia e poterci giocare la possibilità di vincere almeno un trofeo in questa stagione. Perché l'anno scorso non abbiamo vinto. Ce l'ho ancora qua. Voto 6,5 a Danilo. Capitano o mio capitano. Giocatore che in ogni prestazione ci mette sempre cuore, sostanza, esperienza. Finalmente potrà riposarsi un secondo perché questo sta continuando a giocare ogni due giorni per sempre, ogni singolo minuto. Io adesso a Danilo lo vorrei buttare in un lago ghiacciato. Vorrei metterlo... Vorrei veramente congelarlo. Danilo è scongelarlo fra dieci giorni in modo che possa ripristinare, rilassare, rigenerare tutte le sue cellule. Perché ad aprile gli daremo una spompata che poverino lo sa soltanto lui. Sei e mezzo. Voto 6, De Sciglio. Partita, secondo me, ordinatissima. Quella di De Sciglio. Niente di eccezionale. Niente di monumentale. Niente di propositivo. Ma fa la partita che deve fare. La partita nei limiti che deve fare. De Sciglio, ieri sera, non mi ha entusiasmato, non mi ha impressionato, ma ha fatto la partita giusta. La partita che deve fare un giocatore che sa che ha quelle caratteristiche lì, diverse da quadrado, che non può andare a puntare e pensare di... Partita ordinata. Come tutta la Juventus. In posizione a difendere, salire, creare spazio quando c'è la possibilità. Pochi palloni toccati. Sì, pochissimi. Però la Juventus ha funzionato di squadra. E De Sciglio ha fatto parte di questa. 8-7 a Nicolo Fagioli. Ormai lascio dire a voi, perché io di Fagioli mi sono anche francamente stancato di parlare, perché ho finito gli aggettivi. Sono tutti bellissimi, magnifici, magici. Questo secondo me significa veramente avere amore, avere a cuore una causa. Questo significa lavorare, questo significa credere, questo significa insistere, perseverare, lottare per inseguire un sogno. È francamente la favola più bella di quest'anno e la cosa più bella, secondo me, che si porta dietro a Juventus dopo un'annata difficile dentro e fuori dal campo. 8-7 a Pio Locatelli, perché non è da 7 e mezzo, non è da 7 e mezzo, 7 e mezzo sarebbe stato una prestazione con magari un assist o un golo o un po' più di ordine probabilmente nell'impostazione, ma quel più è per farvi e per fargli capire che è il migliore in campo. Per me Locatelli è il migliore in campo, è il migliore in campo, perché è una grinta, una voglia di lottare, un senso della posizione così grande come quello di Locatelli ieri sera, è tanta roba, ragazzi, tanta roba. Questa è proprio la volontà di dimostrare a Mancini che a casa non ci voleva stare. Guarderà sicuramente i suoi compagni dal divano con la consapevolezza di essere stato il migliore in campo nel derby d'Italia a San Siro contro l'Inter. Tanta, tanta roba, Locke, tanta, tanta roba. Centrocampo che funziona, quando funziona il centrocampo è tutto più bello. 6 e mezzo, a Rabiot. Ovviamente sappiamo delle, come si dice, delle polemiche che ci sono legate a questo intervento. Rabiot ha fatto la sua partita onesta, è partito, secondo me, un po' in ritardo nel prendere le misure su Barella, infatti nei primi minuti Barella è stato molto pericoloso, poi Barella si è messo un po' fuori gioco da solo, secondo me, con quella monestina per protesta che è andato a prendersi e poi ha perso lucidità, sicuramente per quello che è stato l'episodio, perché l'episodio sicuramente condiziona, però dei giocatori forti, una squadra forte all'interno di una partita in cui subiscono un episodio magari anche avverso al 23esimo minuto di gioco e devono cercare di trovare delle forze per ribaltarla, perché sennò significa che all'interno del percorso non stai facendo il tuo. E Barella ieri sera mi ha veramente dato l'impressione di essere un giocatore che è lontano parente di quello che dominava il centrocampo e vinceva lo scudetto con Antonio Conte. Stessa cosa, Rabiot stamattina si è tirato fuori dalle tasche tutti i centrocampisti dell'Inter, perché fisicamente non l'hanno mai vista. Rabiot è un gigante, e giganteggia a centrocampo. Vedremo cosa accadrà lato rinnovo. Voto 7 a Kostic che per una volta si prende la copertina. È una cosa che mi piace da matti, dato che è sempre l'uomo dietro le... quello sempre un passo dietro quello che per la squadra... Stavolta è lui. Stavolta è lui il match winner. Quello che ha segnato il gol. Un gol meraviglioso che somigliava tra l'altro molto al tiro che ha fatto all'andata con cui ha preso il palo. Kostic che era stato uno dei peggiori in campo se non il peggiori in campo in Germania. Forse sentiva un po' l'aria di casa tra virgolette per le ultime esperienze di club prima della Juventus. E Kostic che ha fatto una prestazione invece meravigliosa con l'Inter con un gol altrettanto meraviglioso sul quale secondo me è un'ana veramente può poco. C'è da... da cercare il colpevole per quanto mi riguarda all'interno dell'area difensiva dell'Inter che ha fatto un po' di bruttezze. Motosea Sule che fa una partita attentissima e ottima dal punto di vista tecnico gli è mancato sempre quella roba in più però ragazzi questa è la prima volta che giochi in un contesto del genere 70.000 persone a San Siro in trasferta all'interno di una squadra come la Juve che è difficile per giocatori offensivi in una partita che gli è stata richiesta di sacrificio a schermo su Brozvic per limitare le giocate dell'Inter nella quale comunque lui ha fatto il suo. Io Sule non mi sento di dargli meno di 6 che è un voto onestissimo per un ragazzo del 2003 che mai aveva giocato a questi livelli ancora una partita di questo tipo dal primo minuto molto molto bene orgoglioso del fatto che questi giocatori stiano trovando sempre più spazio all'interno di questa Juventus non gioca di Maria perché non sta bene c'è Sule c'è Sule che è un giocatore che può prendere il posto di Maria negli anni a venire non oggi non domani forse nemmeno l'anno prossimo ma è giusto che questo cresca all'ombra di Maria che cresca sotto l'ala protettiva di Di Maria sono contento sono veramente contento di queste cose legate ai ragazzi voto 6 a Vlaovic che fa una partita dura tosta difficile sorrido anche sorrido perché nelle parole di Simone Inzaghi non ho sentito che il secondo tempo è stato arbitrato completamente a senso unico senza mai aver fischiato un fallo per la Juventus e ne ha fatti specie a Vlaovic queste sono analisi che dalla bocca del redentore dell'Inter non sono uscite strano perché una volta decidi di valutare il metro arbitrale il metro di giudizio arbitrale secondo me dovresti avere l'onestà di farlo da una parte e dall'altra se trovi che ci sia stato un episodio di un certo tipo allora valuta tutto e valuta tutto quello che è accaduto perché Vlaovic nel secondo tempo è stato picchiato tirato strattonato spinto innervosito anche tante volte non è mai stato preso nessun tipo di provvedimento anzi quindi davvero bizzarro sicuramente sarà stata una disattenzione alla quale sicuramente nella prossima intervista andrà a recuperare Vlaovic ha fatto la partita una partita dura difficile perché i centrali dell'Inter hanno provato in tutti i modi ad anticiparlo con le buone con le cattive l'ha vista poco l'ha vista poco ma credo che non fosse per niente facile per il tipo di partita che ha fatto la Juve negli ultimi metri ci sarebbe da dargli tre per quella roba che ha fatto nei confronti di Fagioli lì in fondo però aveva voglia di tirare io lì capisco che l'attaccante abbia voglia di tirare di sentire la porta però Duzan era veramente molto facile accompagnare Fagioli servire Fagioli a tu per tu con il portiere miglioriamo cerchiamo di trovare il miglioramento anche in questi errori voto 6 a quadrado da subentrante niente di eccezionale devo dire la verità ha giocato nemmeno tantissimi minuti ha fatto il suo ha messo il suo in uno degli ultimi incroci che farà con l'Inter in carriera a meno che poi ci sarà un trasferimento in un'altra squadra di Serie A o un rinnovo con la Juve o andrà all'Inter che ne so robe del genere però una partita nella quale quadrado è sempre molto protagonista e sentito dai tifosi avversari come per noi sono tanti altri giocatori dell'Inter voto 6 a chiesa che sì gli do il voto ma si poteva anche non dare gli do il voto solo perché secondo me era entrato abbastanza bene all'interno della partita della gara del contesto si era fatto valere e poi e poi non sta bene e mi dispiace mi dispiace tanto perché non sta bene un giocatore del genere ha bisogno di stare bene per giocare ha bisogno veramente di essere non al 100 al 101% per rendere come può e per quelle che sono le sue potenzialità quindi questi giorni di pausa cadono a fagiolo per chiesa cadono a fagiolo per la juventus per riprendere un attimo fiato e vediamo vediamo se chiesa davvero al termine di questa pausa nazionale potrà ritrovare un po' di serenità di continuità e soprattutto di gioia di giocare a questo sport senza voto a Paredes non ho capito sinceramente il motivo per il quale è stato espulso e ripeto quella posizione a me Paredes non mi piace anzi credo che sia un cambio molto troppo forse conservativo posso dire però che non mi sorprende sapere che tra tutti i giocatori che c'erano in campo titolari riserve allenatori collaboratori tutti quelli che c'erano la rissa o comunque l'incendio finale sia nato da Paredes non mi sorprende per niente io non ho capito cosa è successo Dazon non ha fatto vedere le immagini poi mi sono riguardato anche il pezzo viene tagliato a un certo punto si vede chi ha da dire qualcosa con mi pare D'Ambrosio qualcosa sarà successo qualcosa che avrà detto non mi sorprende che cosa vi devo dire non mi sorprende che è riuscito a prendersi il rosso in cinque minuti chi ha giocato ragazzi pagelle terminate le prossime saranno tra qualche giorno godiamoci questa vittoria questa classifica e questi momenti che è riuscito